Sindaci e azienda sanitaria è scontro, troppe cose non vanno ed è inaccettabile, dicono gli amministratori bulgaresi, per risolvere i problemi punta sulla classificazione di quello ilbano come ospedale di base, Ferrari invierà un documento dettagliato alla regione toscana, Fondazione Isola d'Elba, giovedì si elegge il consiglio di amministrazione, tutti i soci possono votare, sono stati resi noti i nomi degli aspiranti, tra cui figurano professionisti locali e famosi amanti dell'Isola d'Elba, giochi delle isole, si parte il 30 giugno, la delegazione ilbana parteciperà dunque ai giochi di Ajaccio in Corsica, grazie al contributo di Mobi e di 5 comuni, dice Bianchi, delegato del CONI, 19 sono i giovani atleti isolani che parteciperanno alle gare, il rientro è previsto per il 3 di luglio, tenda di Napoleone arriva all'Isola d'Elba, sabato 28 giugno alla Villa di San Martino, l'inaugurazione della mostra il bivacco di Napoleone, lusso imperiale a campagna. Buonasera cari e gentili telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleelba, dunque conferenza dei sindaci e confronto con l'azienda sanitaria locale ed è subito scontro. Anna Bulgaresi, sindaco di Marciana, dice che per risolvere i problemi bisogna puntare sulla classificazione dell'ospedale Elbano come ospedale di base. Il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari sta preparando una dettagliata relazione da inviare alla regione Toscana, ma le parti sono lontane. Conferenza dei sindaci a confronto con l'azienda sanitaria, il bilancio non è positivo. Ieri gli amministratori elbani hanno incontrato il direttore generale Asle Eugenio Porfido in un'assemblea piuttosto accesa, perché sono molte le carenze del nostro ospedale e i sindaci non ne possono più, di sentirsi dire sempre le stesse cose, subire sempre gli stessi ritardi e vedersi accampare le solite scuse. Nella riunione sono emersi solo problemi, ha raccontato il neosindaco di Campo nell'Elba, Lorenzo Lambardi. Ci sono molte questioni risolte e questo è inaccettabile quando si parla di sanità. Da ritardi per la realizzazione della camera calda, all'ascensore rotto da due anni e la carenza di personale del pronto soccorso, alla sostituzione del dottor Angelo Testa fino all'ipotesi di una nuova classificazione della nostra struttura sanitaria da ospedale di prossimità a ospedale di base, per risolvere una volta per tutte le criticità. Le questioni sono tutte sul piatto da tempo. Il problema riguarda la qualità dei servizi, troppo limitati, dice Lambardi. I medici lavorano al limite delle loro possibilità e questo non è più tollerabile. Lambardi suggerisce all'azienda sanitaria una soluzione al problema del reperimento del personale che rifiuta di venire all'Elba a causa dei costi dell'alloggio, maggiore coinvolgimento dell'amministrazione comunale e meccanismi di premialità. Si chiede ai comuni, afferma, la disponibilità di locali per sopperire alla richiesta di affitto da accalmerare. Campo è disponibile, ma resta il fatto che sono questioni da prevedere ben prima del 25 di giugno. Anche il sindaco di Marciana è critica sui tempi e su tutta la sanità elbana. Non si può arrivare all'estate per risolvere i problemi. Siamo a luglio e quanto concordato non c'è, dice Anna Bulgaresi. Alcune cose sicuramente sono state fatte, ma non è abbastanza. Siamo stufi di questa situazione. La soluzione? Secondo Bulgaresi, la riclassificazione dell'ospedale. È il nostro obiettivo, conferma, in questo modo potremo risolvere gran parte dei problemi. Penso sia un percorso da intraprendere urgentemente per uscire da questa eterna emergenza. Lo stesso sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari, due giorni fa ha effettuato un blitz al pronto soccorso in cui ha trovato un solo medico di turno. Prepareremo un documento, aveva annunciato, da inviare alla regione per metterla di fronte alle sue responsabilità. Prosegue spedito il cammino della fondazione Isola d'Elba Onlus, domani giovedì in consiglio di amministrazione, si voterà il consiglio di amministrazione presso l'hotel del Golfo di Procchio. Tutti i soci possono votare, intanto sono stati resi noti i nomi dei candidati a partecipare al prossimo CDA, tra questi nomi di imprenditori locali ma anche di amanti dell'isola d'Elba che non sono residenti sull'isola ma sono famosi comunque dei personaggi molto illustri. Sono stati resi noti i nomi dei candidati al consiglio di amministrazione della fondazione, tra questi vi sono sia noti professionisti locali che turisti prestigiosi come Maurizio Romiti, la cui famiglia è molto legata all'Elba, Giuliano Balatresi, Marcello Bargellini, Marcello Camici, Andrea Di Brizzi, Pietro Paolo Del Rico, Patrizia Lupi, Michele Mazzarri, Giampaolo Paoletti, Marco Prianti, Maurizio Romiti e Gabriella Solari. L'assemblea si terrà giovedì 26 giugno all'hotel del Golfo a Procchio. Al termine, attraverso le votazioni e secondo le regole dello statuto, i tre candidati più votati andranno ad affiancare nel CDA i sei soci fondatori, promotori, Marco Mantovani, presidente, Tiziano Nocentini, Vincenzo Gorgoglione, Luca Bartolini, Fabio Morsi, Paolo Di Tursi e con loro i rappresentanti delle categorie Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Albergatori, CNA e Faita. Tutti i soci di tutte le categorie hanno diritto di voto esprimendo una preferenza. Con riferimento all'esercizio della delega, ogni socio può presentare non oltre due deleghe che debbono essere formalizzate compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale della Fondazione Ollus www.fondazioneisoladelba.it e firmato dal delegante. Sarà possibile iscriversi e dunque partecipare alle votazioni anche con la quota minima di socio ordinario di 50 euro entro le ore 19 del giorno 26. L'incontro è previsto alle 17 in prima convocazione e alle 18 in seconda convocazione. La votazione si terrà alle 19.30. Tutti i soci sono invitati a partecipare al voto. L'intento della Fondazione è quello di sostenere l'economia grazie al volontariato e ad un meccanismo di autofinanziamento che deriverà dal 5 per 1000 e dai contributi associativi di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell'isola. E' tutto pronto per la spedizione isolana in un'altra isola, ad Ajaccio, in Corsica, stiamo parlando dei giochi delle isole. La delegazione del BANA con a capo Claudio Bianchi che è delegato del CONI partirà appunto il 30 giugno e questa trasferta è stata resa possibile grazie al contributo della compagnia di navigazione Mobi che ha messo a disposizione oltre che ai viaggi anche una sponsorizzazione per permettere ai 19 atleti elbani che parteciperanno ai giochi di poterlo fare. Il rientro è previsto per il 3 di luglio. Finalmente è pronta a partire la delegazione elbana degli atleti che parteciperanno ai giochi delle isole ad Ajaccio, in Corsica. Gli atleti saranno 19 atleti e saranno i relativi accompagnatori. Complessivamente la delegazione comprende 29 soggetti in delegazione ufficiale. Poi ci sono altri soggetti fuori delegazione che sono complessivamente 31 persone in elenco. Una partecipazione è rimasta incerta fino all'ultimo quando è arrivata alla sponsorizzazione della compagnia di navigazione Mobi a sbloccare la situazione. Noi fino ad aprile non avevamo nessuna certezza di agire i giochi. Anzi, eravamo già ormai rassegnati a passare il turno quest'anno per i giochi. Quando invece è venuta questa buona novella dal Mobi senza che ci fosse stata nessuna sollecitazione da parte nostra perché non pensava al Mobi che ha offerto il viaggio. È partito da lì il discorso di aprile viaggio e poi magari si sono incrementati anche altri rapporti, si sono rafforzati anche i rapporti con questa compagnia. La stessa poi ha concesso anche un contributo e questo ha dato il colpo di grazia, ovvero il colpo decisivo perché noi potessimo fare poi la sessione e quindi iscriversi ai giochi a Iaccio 2014. Certamente bisogna anche far presente che le amministrazioni comunali che sono state sollecitate attraverso anche gli organi di informazione sono state in una condizione, voglio parzialmente giustificarle, perché i soggetti erano soggetti sotto elezioni quindi erano distratte magari da problemi di altra natura. Alla fine hanno partecipato alle spese necessarie a partecipare ai giochi i comuni di Portoferraio, Rio Marina, Camponell'Elba, Marciana, Rio Nell'Elba e Porto Azzurro. Ci sono stati degli sponsor privati, diciamo Mobi e poi qualche sponsor, ma nel momento non molti, c'è stato uno o due, ce ne saranno qualche altro a completamento, ma insomma il grosso è sostituito dai comuni e da Mobi. Dai comuni quando arriveranno, con Mobi abbiamo utilizzato subito le risorse, perché il soggetto privato ci consente il resto, il soggetto pubblico ha dei tempi più lunghi. La partenza è prevista per il 30 giugno. La partenza è prevista domenica sera alle 20 da Portoferraio, sosta a Piombino per il perdontamento e partenza da Piombino alle 5 del mattino per poi prendere la nave a Livorno delle 8, essere abbastita 4 ore dopo e raggiungere poi a Iaccio con Pulma, che troveremo sul posto e il 17 dovremmo essere, del giorno 30 dovremmo essere ad Iaccio. Quindi ce l'abbiamo fatta con soddisfazione, con fatica, ma quando c'è fatica e soddisfazione c'è maggior soddisfazione ancora. C'è una nota della ASL che ci fa sapere che su internet sta circolando una notizia che dal 1 luglio non sarebbe più valida l'autocertificazione per il pagamento o l'esenzione del ticket sull'acquisto delle medicine. La notizia è falsa, dicono dall'azienda, nessuna scadenza il 1 luglio, questa regola vale per altre regioni, non per la Toscana. Su internet sta circolando con insistenza la notizia che dal 1 luglio non sarà più valido l'attuale sistema di autocertificazione della fascia di reddito di appartenenza per il calcolo del ticket. Mentre questa scadenza è stata fissata da altre regioni non è assolutamente valida per la Toscana. Dagli uffici dell'assessorato fanno sapere che resta comunque valido l'invito ai cittadini a verificare che il codice della propria fascia economica risultante dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, ISEE, sia corretto o se eventualmente risulti assente. L'invito è da attivarsi quanto prima ma senza alcuna scadenza già definita. Per saperne di più è possibile contattare il numero verde dell'ASL 6 di Livorno 800 030808 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Inoltre la verifica e l'autocertificazione potranno essere fatte con la carta sanitaria elettronica attivata direttamente online sul sito della Regione Toscana. Per ulteriori informazioni si potrà anche contattare il numero verde 8 0 0 5 5 6 0 6 0 della Regione Toscana. E' stato cancellato l'appuntamento con il concerto del Maggio Fiorentino che era stato fissato in una data di questa estate presso Marina di Campo. Sentiamo il perché. Cancellato il concerto del Maggio musicale Fiorentino a Marina di Campo a spiegare le ragioni della rinuncia da parte degli organizzatori e il sindaco campese Lorenzo Lambardi. L'amministrazione comunale, dice Lambardi, intende rappresentare il più sincero rincrescimento per la rinuncia degli ideatori alla realizzazione del concerto, evento già inserito nel programma delle manifestazioni del bicentenario napoleonico. Anche se i primi approcci per la riuscita dell'evento erano stati avviati dalla precedente amministrazione, il nuovo esecutivo si era impegnato per tener fede al considerevole impegno economico, con un contributo di 15.000 euro. Come per ogni altra manifestazione organizzata dalle associazioni presenti e o operanti sul nostro territorio, continua il primo cittadino, si è ritenuto di dover inoltre garantire tutto il supporto logistico possibile, dalla collaborazione tecnica e amministrativa, alla sicurezza fino alle forniture di energia elettrica. Sicuramente il concerto rappresentava un appuntamento di grande rilievo per gli ospiti e per tutta la cittadinanza, ma tuttavia non si ritiene opportuno che un'amministrazione comunale si occupi di problematiche di tipo logistica e organizzativo, che esulano dai compiti alla stessa attribuiti. Nel quadro economico rappresentato dagli organizzatori sarebbe stato necessario che venissero ricomprese anche prestazioni esterne, di facchinaggio e quant'altro indispensabile alla buona riuscita dell'evento. Naturalmente tutto questo, conclude Lombardi, non esclude l'eventualità che in un prossimo futuro, magari a fronte di una più esatta quantificazione delle spese necessarie e di una migliore organizzazione sia possibile realizzare in perfetta sinergia e collaborazione il tanto giustamente sospirato concerto del maggio musicale fiorentino. E anche per quest'anno, per il 2014, si riaprono le porte della Capitaneria di Porto di Porto Ferraio ai ragazzi che organizzano i campi giovani estivi. L'iniziativa, ricordiamo, è attiva su tutto il territorio nazionale ed è organizzata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Anche per l'anno 2014 si riaprono le porte della Capitaneria di Porto di Porto Ferraio ai ragazzi che prenderanno parte ai campi giovani estivi organizzati su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù. Lunedì scorso è partita questa oramai consolidata attività con l'arrivo da diverse regioni italiane dei primi ragazzi che, suddivisi in quattro gruppi, si susseguiranno durante tutto il periodo estivo. L'obiettivo, dicono dalla Capitaneria, è quello di far conoscere alle nuove generazioni la cultura marinaresca con la partecipazione ad attività attese alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente e alla conoscenza delle norme che regolano la sicurezza della navigazione marittima. I ragazzi verranno quindi inseriti a tutto tondo nel contesto lavorativo della Capitaneria di Porto ed affronteranno momenti di formazione teorica e pratica circa le competenze e le attività che interessano la Guardia Costiera. Infine verrà data la possibilità ai giovani partecipanti di visitare ed apprezzare le realtà culturali e turistiche insulari con escursioni e visite guidate. Il tutto si concluderà con il rilasso di un attestato di partecipazione. E c'è un appuntamento importante previsto per sabato 28 giugno presso la villa di San Martino, la villa di Napoleone, sempre nell'ambito dei festeggiamenti in occasione del bicentenario. Verrà presentata una mostra e sarà nell'occasione allestita la tenda dell'imperatore. In mostra la tenda imperiale di Napoleone. Continuano gli appuntamenti per le celebrazioni del bicentenario napoleonico e sabato 28 giugno alle ore 12, presso la residenza napoleonica di San Martino, si terrà l'inaugurazione della mostra con la quale verrà presentato il bivacco dell'imperatore. La grande tenda di campagna, con i lati di 4 e 6 metri e alta più di 3 metri, raffigurata in molti ed importanti dipinti e recentemente restaurata dal mobilier national, veniva collocata al centro del quartiere generale imperiale. Realizzata in cotone e lino a righe bianche e blu, era bordata da una frangia di lana rossa e composta da una parte esterna tesa con dei picchetti e da una seconda parte interna ed era attrezzata come una reggia in miniatura o più precisamente come una reggia trasportabile. Della reggia doveva avere quel tanto di magnificenza che la faceva distinguere in mezzo all'accampamento e quella funzionalità che doveva permettere a Napoleone di svolgervi il comando delle sue armate e di vivervi nella maniera più confortevole e sicura possibile. Nella tenda si trovavano quei mobili che erano stati progettati per seguire Napoleone nelle sue campagne militari ed erano stati realizzati dai più provetti artigiani del tempo. Mobili ed oggetti che avevano caratteristiche comuni, dovevano essere facilmente ripiegabili, facilmente trasportabili e molto leggeri. E' sicuramente molto elegante. La mostra sarà quindi un avvenimento capace di suscitare nei visitatori grande interesse. L'evento è realizzato all'interno del programma del bicentenario napoleonico con la partecipazione della Regione Toscana, della Fondazione Livorno e della gestione associata per il turismo dei comuni dell'Isola d'Elba. E da appuntamento in appuntamento ve ne ricordiamo un altro previsto per martedì prossimo a Rione L'Elba. Ci sarà un concerto dei Sonora e i fratelli Dainello ritornano all'Isola d'Elba con il tour che stanno portando in giro in tutte le piazze d'Italia. I Sonora, il duo composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, sbarcano anche all'Isola d'Elba per fare una tappa del loro tour, il viaggio, titolo che dà il nome anche al loro nuovo album uscito lo scorso aprile a Milano. Infatti, grazie al contributo del comune di Rione L'Elba, in collaborazione con la Scuola di Musica Sonora, a loro dedicata e nata a Rione L'Elba nel 2011, con sede anche a Porto Azzurro. I Sonora si esibiranno in un concerto che si svolgerà martedì 1 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Popolo a Rione L'Elba. I Sonora saranno per la prima volta all'Isola d'Elba con la formazione al completo, tutta la band infatti è formata da sei elementi. Prima dell'inizio del concerto i ragazzi e gli studenti della loro scuola verranno presentati sul palco, non mancheranno piacevoli sorprese. Ricordiamo che il concerto è all'ingresso libero. Bene, era questa la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale, non prima però di avervi ricordato il nostro giornale online dove potete trovare le notizie dell'ultima ora, tnews.it. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle prossime. Grazie per aver guardato il nostro canale.